Un saluto e un abbracione dal vostro Italo FIFA Gamer Benvenuti in questo nuovo video Oggi parliamo della partita sfortunata della Juventus Perché la Juventus veramente è stata derubata Era stata autrice di un altro miracolo italiano Era andata in vantaggio al secondo minuto con Manzuchic Poi aveva segnato un altro gol ancora con Manzuchic al 37esimo Poi dopo al 60esimo aveva segnato pure con Manzuchic E al 97esimo è stato assegnato un calcio di rigore Per mio parere io non tifo Juventus Inesistente un'esplosione pure di Buffon Vabbè ormai non contava più niente Comunque l'arbitro ha sbagliato in maniera grottesca Quello non è calcio di rigore Almeno Juventus meritava i tempi supplementari E come stava giocando Stava giocando molto bene Forse aveva preso atto di ciò che aveva fatto ieri sera La Roma contro il Baccellona Poi l'esultanza di Ronaldo Questa sera Ronaldo non ha fatto niente All'incontrario della partita dell'andata In cui era stato un fenomeno Comunque la Juventus è stata derubata Per conto mio lo dice un romanista Questo non era calcio di rigore La Juventus meritava forse pure di passare il turno Ma almeno la soddisfazione dei calci di rigore la doveva avere Parliamo francamente Quest'arbitro ha fatto una sciocchezza incredibile Un po' l'espulsione Vabbè che la partita era finita Comunque la Juventus questa volta ha molte ragioni di recriminare Stiamo vedendo che Questi squadroni Il Real Madrid è stato salvato E' stato portato su dall'arbitro all'ultimo Se no secondo me se continuava la partita supplementare La Juventus aveva un buon 60% di portarlo a casa E di vincere la partita E andare alle semifinali insieme alla Roma Nell'altra partita il Bayern Monaco Appareggiato 0-0 contro il Sevilla Ed è passato Quindi le quattro semifinaliste sono Liverpool-Roma Real Madrid E Bayern Monaco Venerdì ci saranno i sorteggi Vedremo gli accoppiamenti Comunque un saluto a tutti i tifosi Juventini Lo so che sono amareggiati Lo so che non meritavate questa cosa Io veramente Questa volta Io Non sono proprio un simpatizzante Juventino Però questa volta Siete stati danneggiati E sono veramente vicino Con voi con tutto il cuore Quindi ragazzi Se questo video vi piace Siete d'accordo con me Lasciate un like Iscrivetevi al canale Spolliciate Io vi dico sempre Ciao Miau Bau Belli Forza Italia Forza Juventus Forza Roma Forza tutte le squadre italiane Ciao Vale Grazie